per i prossimi progetti. A questo punto conclusa la stizione dei progetti dedicati agli archivi la parola passa alla dottoressa Maria Piaguermandi che è responsabile del progetto europeo di cui potrà darci qualche battuta. Comunque i due progetti che la dottoressa Piaguermandi ci presenta riguardano i progetti speciali CEC per l'estografia in calcio e mi piace di cui potrà darci qualche battuta a dove raccomandare la dottoressa Piaguermandi del CIO climate, del CIO climat e del CIO climat.